Nome? Costanza. Età? 19. Hai mai postato? No. Stai seguendo la campagna elettorale? Insomma, se è così. Il candidato peggiore e il migliore? Peggiore Renzi. Migliore non lo so, non credo ci sia. Che cosa ti piace di Firenze? Mi piacciono i musei e le opere d'arte. Che cosa manca? Mancano un po' di spazi grandi per i giovani, un po' per la musica anche. Tranvia, sì o no? Sì. Sei tifoso? Che ne pensi del nuovo stadio? No, non sono tifosa e non lo so, insomma, non so niente del nuovo stadio, non mi sono interessata. Manca la sicurezza? No. Ronde sì o no? No, no, solamente no. Saresti favorevole a una vettina notturna per i ragazzi? Sì. Sì. È abbastanza viva Firenze? Insomma, non tantissimo. Scegli un candidato, che gli chiederesti? Eh, non lo so. Chiederei a Renzi, cioè ho sentito dire che Renzi voleva chiudere il CPA, gli chiederei il perché di questa affermazione. Non sono d'accordo, insomma.